Una giovane esemplare di Balenottera è stata trovata a prio di vita sulla spiaggia tra le località Tumulito e Sant'Anastasia a Fondi. Ad effettuare il magrabo riverimento sono stati i bagnanti che si trovavano sull'arenile quando hanno visto il cetaceo confuso tra le onde. Alcuni turisti hanno provato istintivamente a soccorrere la Balenottera ma hanno dovuto ricredersi in poco tempo. Il cetaceo, lungo tre metri e mezzo, è giunto sulla spiaggia decapitato. Tempestivo è stato poi l'intervento di un battello pneumatico della Guardia Costiera di Gaeta, di Stanza Sperlonca, che appurava come l'animale, oltre ad essere privo di testa, si trovasse in avanzato stato di decomposizione. Manca l'ufficialità che ora dovrà arrivare dall'ufficio veterinario dell'Astra di Latina, ma l'animale nei giorni scorsi potrebbe essere stato ferito mortalmente da qualche natante in transito a largo. La Guardia Costiera chiedeva e otteneva anche l'intervento degli organi competenti, per effettuare prelievi di campioni biologici sul cetaceo, e anche dello stesso personale incaricato da Comuni di Fondi, per il successivo smaltimento di quanto è rimasto della sua carcassa. Grazie. Grazie. Grazie.